Dopo lo scoppio di quello che tu hai scoperto essere uno sparo, riuscito da un'arma molto simile a una di quelle che tu inventasti, vedi appunto che aleva cadere dal tetto di questa casa che sarà alto almeno 5 metri. Nel momento in cui cade non ti sembra si faccia particolari danni relativi alla caduta, forse un po' di fortuna, il problema è che vedi immediatamente una pozza di sangue che si apre sotto di lei nella neve. Grazie a tutti. 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 di lunghezza è leggermente più lunga di quella che hai creato tu però ha la canna quindi il tubo di ferro più sottile tu sai dai tuoi vari esperimenti che canna più sottile vuol dire più precisione ma anche più facilità che si distrugga la canna nel momento dello scoppio quindi capisci che non è un'arma proprio rudimentale c'è stato un minimo di studio dietro la cosa proprio lo capisci dalla fattura anche perché tu avevi creato un manico veramente rudimentale perché te interessava proprio l'effetto magico che poteva causare tutta quella quantità di danni vedendo cosa potesse fare sulla caccia e adesso l'hai visto anche sugli esseri umani hai detto basta non mi interessa l'arma di quest'uomo invece è molto più rifinita ha infatti un manico e un calcio in osso lo puoi capire dal colore non è decorato ma diciamo che è strutturato in maniera da essere abbastanza ergonomico e il grilletto che accende appunto la miccia cosa che tu non hai tu conosci il concetto di miccia perché esistono le bombe in Eldamas il problema è che il tuo funziona magia questo probabilmente no questo ha proprio un funzionamento meccanico quindi è più rifinita diciamo una più evoluta a livello estetico e meccanico però puoi pensare che non usi la magia ecco questa è l'arma che hai di fronte ok e chiaramente per quanto vorrei mettermi fra i due che stanno parlando e dire regà cosa c'è caleva in una pozza di sangue quindi corro da lei subito dopo un attimo ovviamente di shock ok nel momento in cui ti muovi c'è un istante di confusione perché siete sotto tiro state contrattando e te fai una mossa improvvisa per una dream riesce a calmare tutti ti lancia uno sguardo di supplica del tipo non fare stronzate che sto cercando di risolvere la situazione loro vedono che stai soccorrendo caleva non stai facendo cose strane ti tengono ad occhio ma riprendono a parlare questa volta una dream parla un po' più rapidamente un po' più in tensione di prima se vuoi capire in che condizioni si trova caleva con abbastanza chiarezza oltre al si è fatta molto male dovrei farmi un tiro di medicina 14 perfetto prima che ti risponda vuoi concentrarti sulla ferita dell'arma da fuoco o sulla situazione generale dello status di caleva allora vorrei concentrarmi sulla sulla situazione generale ok allora l'arma da fuoco le dai un'occhiata rapida ma perché tu conosci i danni che può fare hai visto che sta sanguinando quindi guardi solo dov'è se ha colpito un punto vitale tu vedi che ha colpito il ventre c'è molto sangue però non necessariamente il ventre è un punto vitale caleva respira ha perso i sensi però respira in maniera molto affannosa e irregolare dalla posizione degli arti capisci che ha almeno una gamba e un braccio rotto per la caduta e ovviamente qualche altra tumefazione in giro perché comunque cinque metri da caduta sono tanti diciamo che la tua paura è che abbia una qualche emorragia interna perché potresti anche stabilizzare la ferita dell'arma da fuoco hai quel minimo di competenze mediche per provarci il problema è il resto perché fratture anche quelle si risolvono emorragie interne di questi tempi è un po' complicato a meno che non trovate un mago dell'acqua se ne ha puoi dire che sia spacciata ce la può fare nell'immediato quindi tu potresti stabilizzarla se lo facessi ora e se non ha cose non visibili può essere salvata diciamo che è in stato critico non immediato di pericolo di vita per quanto ne sai tu ovviamente diventa immediato se non chiudi la ferita dell'arma da fuoco certo allora inizio a premere sulla ferita d'arma da fuoco anche solo per contenere a mani nude? allora non so se ho degli stracci dietro però non so se può essere utile o meno perché per tamponare di certo però magari sono sporchi non so non sono esattamente garze esatto li prendo comunque piuttosto che a mani nude e inizio anche solo a bloccare l'emorragia comunque appena inizi a fare questo processo tu senti nelle parole confuse di Luna Dream il nome Kaleva appunto cioè nelle parole confuse nelle parole che non capisci senti il nome Kaleva ok c'è un momento di confusione poi vedi arrivare di corsa tre uomini verso di te non sono armati uno di loro ha delineamenti simile asiatico quindi gli altri due potrebbe saltarti all'occhio gli altri due invece sono non vorrei dirti esseri umani appunto JPEG ma hanno appunto quelle che sono allenamenti caucasici quindi occidentali diciamo che anche per come sono vestiti che non è palesemente da battaglia sono vestiti in maniera molto più semplice e molto più comoda anche non sono soldati si avvicinano di corsa verso Kaleva cioè non ti cagano di striscio e a meno che tu non voglia reagire vado avanti no voglio continuare a tenere sulla ferita devi farmi una prova contrapposta di forza 11 10 più 1 perfetto avete pareggiato quello che succede è che l'uomo asiatico si fionda si inginocchia praticamente vicino a te e prova a spingerti via evidentemente per controllare la ferita non si riesce allora cosa fa chiama gli altri due e gli dice qualcosa sempre nella lingua dei cacciatori erranti appunto questi due con molta nonchalance prendono le loro asce e dai muri delle case di legno staccano due assi e le fanno a grandi linee su misura e allora il medico mentre tu il medico quello che puoi pensare sia un medico mentre tu premi la ferita inizia a fasciare il braccio destro di Caleva e poi anche la gamba sinistra appunto mettendo una stecca conscio del fatto che sono rotte mentre fa questo processo il tono con cui l'uomo sta parlando a Luna Dream ora è molto interessato molto divertito anche e il medico quando ha fatto quello che doveva fare fasciando braccia e gambe ti guarda con lo sguardo eloquente tipo levati di culo per favore io sono molto riluttante vi faccio un po' capire quello che sta passando nella testa di Tascia che non è razzista non è per niente razzista è una persona molto aperta è una persona molto anche se vogliamo con pochi con pochi bias no perché tutti avevano dei bias ma non ha infatti no a te stanno sul cazzo tutti cioè sei assolutamente inclusiva però queste persone che chiaramente appartengono tutte allo stesso gruppo non ha ancora bene non c'è oddio ha capito che essendo la lingua dei cacciatori erranti o comunque una lingua che parla Runadrim che è un cacciatore erranti che è un guardiano di sto cazzo delle nebbie di sto cazzo sarà parte di quel gruppo comunque è parte la cosa l'accento di Runadrim è palesemente non nativo e sono dimenticato di dirlo cioè non è la sua lingua madre e si sente ok però conosce la lingua questo è stato un errore mio diciamo che posso diciamo che nel marasma aspetta un attimo vedi che ha l'accento diverso senti che ha l'accento un po' più duro il fatto è che hanno appena sparato alla sua migliore amica ma allo stesso tempo la stanno salvando quindi non c'è niente che possa farmi fidare di queste persone nel momento in cui vedo che palesemente si tratta di persone che sanno cioè sanno steccare una frattura comunque sanno gestire una situazione medica molto ma molto riluttante lascio la presa sulla la ferita d'arma da fuoco per magari lascio magari gli stracci se vogliono usarli però sono molto riluttante perché intanto non sto capendo cioè non sto capendo proprio in generale non sto capendo niente di quello che succede perché il fight finisce Kaleva viene praticamente ammazzata perché se tu spari una persona e Tasha lo sa con un'arma di quel tipo è perché vuoi ucciderla non è perché vuoi darle uno schiaffetto del tipo stai là no è perché vuoi ucciderla e poi arrivano tre persone a medicarla dopo che il tuo compagno l'ha nominata esatto arrivano a medicarla nella testa di Tasha ci sono una serie di ragionamenti del tipo sarà perché è figlia della della K sarà perché non sto capendo e quindi il momento in cui lascio mi assicuro che qualcun altro tenga la ferita al posto mio dato che vogliono fare loro le robe perché sono loro bravi qualcuno lo fa allora io ti descrivo la cosa poi ti farò fare un tiro su saggezza per vedere se riesci a liberarti dello stato su sconvolta ok quello che vedi è molto particolare diciamo che non è decisamente in stile in stile terre perdute perché l'uomo da da lineamenti asiatici che noti essere pallido cosa molto rara che di solito non ha nessuno nelle terre perdute proprio lui è pallido proprio alla carnagione chiara è dato che vivono all'esterno che di solito non ce l'hanno quello che fa lui è premere la ferita con una mano con l'altra apre una borraccia che ha alla cintura e controlla dell'acqua che fa uscire dalla borraccia appena stacca la mano destra mette la mano sinistra sulla ferita e vedi che armeggia con le dita non entra nella ferita però vedi che muove le dita e con molta calma lo vedi estrarre i proiettili dalla ferita che rimangono appunto imprigionati in questa bolla d'acqua i proiettili si tratta appunto il fucile di un moschetto che non spara un proiettile spara diciamo due o tre proiettili insieme proprio carica e boom non è molto preciso però quello che fa quindi estrae questi tre queste tre sferette molto più simili a cubetti di metallo e butta poi via l'acqua apre un'altra borraccia che è nell'altro lato la riprende e rifà lo stesso processo tu quello che vedi è che la ferita si sta chiudendo in tempo reale questa tu non ne sai molto ma capisci che questa è magia medica di livello molto elevato riuscire a curare in tempo reale una ferita che è arrivata anche in profondità in tempo reale in una situazione molto molto eroica per così dire molto alla spiccia lo sta facendo smette Kaleva smette di sanguinare ma non finisce qui quando ha chiuso la ferita inizia a passare la mano bagnata su Kaleva con questa pozza d'acqua senza bagnare Kaleva c'è anche questa cosa come se stesse sondando una specie di scannerizzazione ok quello che sta facendo e a una certa si ferma nel punto dello stomaco affonda più leggermente la mano e poi la fa scorrere verso la bocca che apre di Kaleva e tira fuori un po' di sangue che non conserva semplicemente butta via diciamo che ha aveva un inizio di emorragia interna Kaleva quindi le tue paure erano fondate ok quando lui ha fatto tutti questi processi che è nel mentre tu sei diciamo rapita da questa cosa ma rapita perché inizialmente volevi controllare cosa stavano facendo ma ti sei resa conto che quello lì cazzo è un medico sul serio Luna Dream e Stottizio continuano a parlare qua appena il medico ha stabilizzato Kaleva gli altri due quello che fanno è quasi alzarlo di peso e portarlo via tu finora adesso non te ne riaccorta ma non aveva per niente il viso tranquillo cioè non sembra integrato nel gruppo è più basso più più gracile evidentemente meno abituato al freddo perché ha dei geloni però è un medico di livello elevato che ha stabilizzato Kaleva no lui presentava proprio i classici lineamenti da tribù delle terre perdute quindi lo sguardo indurito la pelle spessa scura gli occhi abbastanza chiari però un po' più scuri del normale tendenti all'azzurro spento coi capelli biondo cenere comunque il biondo cenere non è così sono più comuni i capelli scuri nelle terre perdute l'altro invece era in altezza a metà fra il medico e il ragazzo che ti ho appena descritto ed era invece un uomo decisamente più anziano sulla cinquantina portava una barba con tre trecce anche lui aveva dei lineamenti asiatici però sempre la pelle scura spessa quindi probabilmente quei due vengono dalle terre perdute l'unica virgola strana in tutto questo è appunto il medico che palesemente non viene dalle terre perdute mentre vedi questo medico venire quasi trascinato via diciamo che gli hanno concesso solo di stabilizzare caleva perché tu sai che un medico dell'acqua può tranquillamente sistemare le ossa rotte possono farlo in tempi piuttosto rapidi runadrim smette di parlare col tizio e si gira verso di te io lo guardo malissimo cioè lo guardo proprio male vado verso di lui e lo guardo malissimo e gli dico quando avrai tempo di spiegarmi che cazzo sta succedendo te ne sarò grata il tempo ce l'ho mi hanno detto di spiegartela siamo prigionieri non possiamo combattere contro 15 persone con caleva in questo stato perché cazzo non hanno sparato non l'hanno riconosciuta altrimenti non l'avrebbero fatto in cambio dell'accettare di essere fatti i prigionieri le hanno salvato la vita dallo sparo però adesso loro ci porteranno al loro campo e ci interrogeranno o così o caleva sarebbe morta e probabilmente anche noi e perché siamo così importanti come prigionieri? ah beh tu non sei importante ma caleva lo è questo è perché caleva è una figura importante nelle tribù centrali e rende la sua uccisione un potenziale atto di guerra molto grave oltre al fatto che potrebbero tentare di ottenere un ricatto per riportarla indietro non è un caso che non l'abbiano curata del tutto con un braccio e una gamba rotta non può scappare questo te lo dice sottovoce quindi stai tranquilla ci legheranno ci benderanno ci porteranno al campo non ci faranno del male a meno che non gli diamo motivo di farlo in tutto questo la lupa di caleva è ancora la zignova gelica sul crinale da qua non lo puoi dire voi l'avete lasciata lì insieme ai cavalli e alle provviste i lupi diciamo che sanno seguire le tracce possono non sono intelligenti sono animali intelligenti shaka is a good girl don't don't preoccupate ok e soprattutto sanno seguire gli odori immagino se io lasciassi ipoteticamente uno straccio mio o qualcosa di mio lei saprebbe un minimo arrivare a noi come dire destra o sinistra destra io volevo lasciare non in bella vista però volevo non so se devo tirare un intrattenere o un ingannare non lo so dimmilo tu volevo far finta di avere non dico un crollo emotivo però di fatto sono scioccata sono ancora scioccata volevo un attimo a proposito è vero sedermi volevo un attimo sedermi e magari non so prendermi le mani la testa fra le mani queste cazzate qua e nel frattempo lasciare un po' sotto la neve uno straccio o qualcosa di mio che possa contenere l'odore mio piuttosto che cioè in realtà sarebbe meglio quello di Kaleva beh c'è il sangue per terra lascerei uno straccio o un cacciavite però quello sarebbe più difficile da prendere uno straccio un fazzoletto qualcosa ingannare e un furtività allora arrivo subito che non mi ricordo le mie stats no non me le ricordo ok ok allora questo è sportività molto bene 5 6 7 e questo è l'ingannare 20 naturali più 3 ok ti spiego cosa succede quando decidi di fare questa cosa e si è elevato lo status sconvolto diciamo che ti ha spiegato le cose che devi fare finalmente Luna Dream ti dice le cose decidi di fare questa recitazione questo appunto tentativo di mollare questo straccio questo qualcosa per terra il problema è che quello che fai è perfetto cioè sembra quasi che tu sia veramente cioè quasi sembra che tu sia proprio disperata per quello che è appena avvenuto il problema è che sei talmente presa dal far sembrare che tu stia provando quello che stai mostrando che il tuo tentativo di mettere quello straccio sotto la neve sembra più un gesto sfuriato causato dalla disperazione che tutti notano però sembri una povera ragazza disperata quello si appieno proprio il fatto è questo non ti caga non ti striscio bello questi poveri piagnoni del nord cose del genere quando fai questo un uomo ancora più grosso di Luna Dream il che è veramente complicato perché Luna Dream è alto 1,85 viene fuori questo armadio sostanzialmente hai presente i bodybuilder quelli che fanno le pose ecco però non sono muscoli pompati sono muscoli veri una specie di barbaro gigantesco con molta vehemenza prende le mani di Luna Dream gliele mette dietro la schiena e inizia a legarle anche dalle smorfi di Luna Dream capisci che le sta legando forte e poi gli infila un sacco in testa domanda non l'ha perquisito? no ok vorrei prima mentre sto facendo questa cosa vorrei molto velocemente probabilmente dovrò attirare un altro stealth e farla di nuovo cagare però voglio rischiare la cosa voglio prendere dai miei attrezzi qualcosa di una lametta qualcosa del genere e infilarmela dietro cioè nelle mutande insomma però dietro cioè non davanti perché non riuscirei a prenderle con le mani legate servirà una semplice furtività ok però ti ho avverto che è difficile perché devi letteralmente aprire lo zaino perché stavo pensando io non ho un ciondolo qualcosa di 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 mio che potrei dire ah stavo prendendo il ciondolo di mio padre aiuto no però hai la lettera di tuo padre bravo ok prendo la lettera insieme a questa lametta o quel che l'è e provo a non dico a indurre un pianto però sommessamente a a stare male non so come dire con la stessa teatralità di prima non super non super teatrale cioè sempre qualcosa di molto riservato molto cioè non è che sono io oh mio Dio a meno che tu non faccia uno per me non è super teatrale cioè se fai uno tu fai proprio l'attore di no ok l'attore rucolo di quartiere questo giro non ti faccio tirare ok quindi solo furtività mh come 14 quindi 16 ok non lo fai cioè è difficile non farsi beccare aprendo lo zaino beh no quello sì il fatto è che non ti stanno prestando attenzione tu comunque fai la discreta però diciamo che se uno ti avesse guardato l'avrebbe visto però nessuno ti sta prestando attenzione non hai fatto rumori strani casini non ti è caduto lo zaino di mano mentre ci l'ho vista vi dentro sarebbe stato bellissimo sarebbe stato bellissimo con tutta la mia ova perché sono fai ti rami un di venti un attimo 14 ok va bene riesci a prenderle entrambe ok sia le tre di tuo padre che non dico taglianino ma si tratta alla fine di quello che è un tagliacarte quindi è un coltello molto affilato però cioè non ci puoi combattere con un tagliacarte detto questo l'omone gigante consegna runadrim all'uomo col fucile vedi runadrim che accetta passivamente tutto quello che accade e si avvicina verso di te a passi pesanti leva lo zaino e lo dà al primo che passa quindi per ora bye bye zaino dove ho anche il bastone io però perché il bastone non lo tengo era appena finito il combattimento diciamo che quando si è corso da caleva l'hai lasciato per terra ok ce l'avevi in mano non è che ci sta nello zaino un bastone da combattimento cioè o ce l'hai legato alle fasce laterali quindi se non lo prendo lo perdo amico posso chiederti solo una cosa puoi lasciarmi nel bastone si nel bastone puoi lasciarmi nello zaino il mio bastone perché è molto importante per me non credo di poterlo usare se mi legherai quindi non vedo il problema c'è un piccolo problema lui non parla al comune amico allora noi 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 amici noi allora no gli indico lo zaino e gli indico il bastone per terra noi amici io io legata io legata quindi io non posso prendere quindi io io no bastone tu tu bastone c'è il problema che su intuizione il nostro signorino ha fatto fallimento ma vaffanculo no capisce che il bastone è tuo però non ha capito il concetto di prendili insieme glielo ridico e se non capisce dico runardin puoi chiedergli di raccogliere il mio bastone e lasciarlo con la mia roba perché è molto importante per me non potrà usarlo da legata cazzo potrebbe reagire abbastanza male va bene no sto giro ha capito il concetto il nostro omone ok e capisci che l'unica barriera è linguistica non è il classico energumeno il classico energumeno cartoon che è grosso e stupido semplicemente non capisce la tua lingua ok quindi capisce parlò va ti trascina con estrema forza cioè pensi che potrebbe tranquillamente portarti avanti e indietro come se fossi un sacco di patate e va a a parlare con con l'uomo armato di fucile quindi ti mette praticamente a fianco a runa dream e sta parlando con questo armato di fucile e ti guarda e capisci che riconosce che non sei di quelle parti capisce che non vieni dalle terre perdute va a prendere sia lo zaino che il bastone e non ti caga più di striscio praticamente se li tiene mentre dice qualcosa tra sé e sé e runa dream da sotto il sacco molto flebile ti dice probabilmente lo svuoteranno per capire cosa c'è dentro ah ok pensavo lo svuoteranno nel senso che butteranno via tutto quello che c'è dentro e hai destrato il loro interesse non so se sia una cosa positiva meglio che perdere il mio bastone quando dici questo un sacco ti viene calato sulla testa qua inizierà una marcia abbastanza breve in realtà mezz'ora in cui capisci che te e runa dream siete stati anche legati insieme e il fatto che siete stati legati insieme non è alle mani perché le avete entrambi dietro vi hanno legati insieme con un cappio quindi se uno corre vi stringete a vicenda better safe than sorry praticamente vi hanno legati così questa è l'idea non è la classica marcia in cui vi pestano vi fanno arrivare è una marcia civile considerato il fatto che siete prigionieri ovviamente non è che si dite devo andare in bagno oppure ho bisogno di fare una pausa faranno la pausa vero semplicemente a salvo non facciate minchiate non vi daranno fastidio tanto siete vendati legati e messi a posto a meno che tu non voglia fare qualcosa lungo il tragitto a un certo punto inizi a sentire odore di legna bruciata ma non casa bruciata nel senso di falò ok il fatto è questo non vi fermate a quello che probabilmente è il loro accampamento venite caricati su un carro quello che tu capisci essere un carro perché non lo vedi però ti siedi su un posto e quel posto inizia a muoversi puoi presumere che sia un carro a una certa riconosci delle mani che ti stanno toccando non sono di Luna Dream una voce maschile sono non è un tocco né con fare perquisitorio né con intenti negativi diciamo è come se stesse cercando di capire se ci sono fratture botte altri casi tocco medico molto spiccio tocco medico però tra i tre che sono arrivati a soccorrere Kaleva quello che ha messo le mani sulla ferita è solo il medico sulle ferite di Kaleva è solo il medico posso presumere che sia tra virgolette solo lui ad essere non dico vero medico però comunque sì un medico allora nel gruppo che vi ha portato fino all'accampamento sì poi non si sa se ce ne hanno altri però poi puoi immaginarlo quello sì io non mi sento fratture cose varie quindi giusto per vedere se posso iniziare una conversazione se è la persona che mi intendo io perché ovviamente non lo so perché sono bendata dico grazie dottore ma non ho non sto benissimo non ho fratture al contrario della mia amica le mani si irrigidiscono quando gli parli in comune presumo e ti dice con una voce molto flebile ma è la voce flebile del malato cioè la voce flebile di chi sta male fisicamente ok come di chi beve poco per farti capire non posso parlare la vostra amica sta meglio sopravviverà di certo al viaggio io dico in modo molto molto basso toccami una volta la schiena se sei prigioniero e lui ti tocca la schiena nel frattempo senti un runadream che ti dice a voce sommezza ma che cazzo stai facendo proprio te lo chiede così ma che cazzo fai e quindi runadream è seduto nel nostro posto in cui si è seduta a te chiedo a runadream sempre a bassa voce se qualcuno oltre ovviamente al medico fra le persone cacciatori erranti suppongo conosce il comune o comunque può capirlo in generale no questi parlano solo la lingua generale o delle loro tribù di provenienza e la lingua dei cacciatori erranti è difficile che sappiano il comune ma non impossibile in special modo i ranghi più alti beh in ragazzone chi mi ha legato di sicuro no sarà probabilmente l'ultima cosa che dirò e la dirò a voce molto più bassa ancora più bassa io l'ordigno che avevo creato l'avevo chiamato fucile o come cioè non avevo dato un nome però posso usare fucile cioè io ti ho detto fucile appunto per darti l'immagine immediata di cosa fosse diciamo che il nome che tu gli avevi dato è un qualcosa che è intraducibile nella nella nostra lingua ma che appunto nella lingua del fulmine sarebbe appunto canna che scoppia cioè perché hai usato il linguaggio militare del regno del fulmine che è in codice che trasmette quindi concetti e non significati questa è l'idea e puoi chiamarlo fucile tranquillamente comunque vero ok in ogni caso tento di tradurre la parola in comune per facilità e quello che dico è perché cazzo questi qui hanno un fucile qualcuno gliel'ha forniti e poi senti che lui si alza questo il medico si alza e probabilmente scende dal carro domanda di lore e di tecnologia io so oddio non so non sarò l'unica inventricio comunque persona che fa le cose ok però che tu sappia è un'invenzione tua nel senso non ne hai mai sentito parlare non ne hai mai visto in giro non ne hai mai visto neanche nei miei nei sateregni no non perché io pensi di essere l'unica ad aver avuto quest'idea però chi tra quando ero nel regno del fumo o comunque in altri regna nord e chi è e persone con cui ero nel nelle terre perdute sono venute a conoscenza del fatto che di questa mia invenzione o sono venuti diciamo non dico in possesso però a contatto con i miei documenti e le mie ricerche sui fucili in particolare allora Kaleva ti hai fatto anche vedere come funziona tuo padre ma tu sai che non ha mai mandato niente a nessuno soprattutto su tua fica richiesta sul fucile proprio non ha aperto bocca e probabilmente che ne so qualcuno degli inservienti che veniva a pulire la casa cioè le alternative sono poche quindi o Kaleva c'ha le mani impastate e non l'hanno ammazzata per quello o tuo padre è un bastardo le dimensioni bibliche oppure avete dei traditori tra le vostre fila oppure qualcun altro ha pensato a questa cosa oppure qualcun altro l'ha pensato perché in realtà è diverso da quello che è tuo è la tua magia domanda come ti dissi alla prima sessione prima ci devi arrivare al regno del fulmine esatto ok bene domanda io conosco qualcuno sia nei sette regni che nelle terre perdute che possa avere le mie stesse no non dico le mie stesse conoscenze perché in ambito magari di pietra di giluef no perché c'è solo lì però a livello tecnologico proprio basilare le stesse mie conosco altri inventori conosco altra gente allora a livello tecnologico il primo posto che ti viene da pensare il regno della terra sai che sono i più avanzati sai che loro hanno inventato quelle che sono le bombe la polvere da sparo cioè hanno scoperto la polvere da sparo alla fine quindi a livello di conoscenze tecniche ti sembrano in assoluto i più come è che si dice quelli che si prestano di più alla possibilità il problema è questo il regno della terra in questa guerra è neutro cioè è un paese che non combatte il regno della terra è il meno attivo a livello militare sin dagli albori della storia di Eldamas ha veramente pochissimo interesse a livello di conquiste in battaglia quindi cioè che tu sappia non la sfruttano mai la tecnologia per utilizzare armamenti infatti i loro eserciti sono i più arretrati per così dire un'altra popolazione che a livello tecnologico non è messa male però non è nemmeno lontanamente come il regno della terra ma ha interessi militari molto forti anche nel regno del fulmin anche nelle terre perdute è il regno dell'acqua questo perché il regno dell'acqua è l'unica nazione che confina nella sezione est appunto delle terre perdute hanno creato questa muraglia non è una muraglia ma si può dire un confine con diciamo un costante approvvigionamento di forza e cibo tramite un patto con gli altri regni loro si occupano di impedire appunto che avvengano migrazioni sfondamenti invasioni da parte delle tribù orientali che sono un po' più aggressive nei confronti dei regni di Eldamas e hanno fortissimi interessi militari perché l'unica dell'acqua è in assoluto quello con più interessi militari di tutta Eldamas hanno uno degli eserciti più potenti però a livello tecnologico non sono così avanzati questo perché hanno un potere magico che è estremamente utile al combattimento quindi a livello tecnologico è acqua cioè è terra è di certo acqua poi il vostro alleato in guerra è l'ombra che a livello di tecnologia ha veramente pochissimo interesse la luce generalmente guarda con occhio un po' diffidente gli sviluppi tecnologici il fuoco ha zero interessi a ottenere risorse dalle terre proibite perché è la nazione più ricca di Eldamas in assoluto quindi non ha assolutamente nessun interesse il regno del vento è dall'altra parte del mondo cioè ma proprio è praticamente al polo nord voi siete al polo sud quindi anzi sono oggettivamente il popolo tecnologicamente più arretrato l'acqua avrebbe senso ma vuol dire che qualcuno gli ha passato le informazioni la terra avrebbero le informazioni per farlo però perché dovrebbero fare queste armi che non combattono mai signori vi ho fatto un altro into the lore di Eldamas però questa questa è la situazione per farla in breve comunque nell'introduzione dissi che Eldamas è in guerra ok in questo momento si trovano due fronti fulmine acqua e ombra alleati contro quello che è luce vento e fuoco che sono gli alleati storici fra di loro la terra è sempre rimasta neutrale quasi sempre a volte ha dato una mano principalmente al fronte della luce luce e ombra da sempre sono nemici fulmine e acqua o per interessi o per altri motivi ogni tanto ma di rado si sono alleati con il regno dell'ombra fuoco è sempre solo alleato con il regno della luce vento anche lui segue appunto il regno della luce è in corso una guerra appunto come dicevo da diversi secoli per la creazione dell'essere umano perfetto ovvero incroci genetici che permettono di creare esseri umani che controllano tutti e sette gli elementi questa guerra avrà conseguenze no enormi di più sul futuro di Eldamas questa è una linea temporale passata rispetto all'ambientazione normale stanno per sorgere i problemi che porteranno alla fine del conflitto il fatto è questa guerra non è molto militare cioè non è militare ni ha dei conflitti militari ma è principalmente un quello che si tratta di impedire la tratta umana questo perché gli interessi delle classi aristocratiche sono appunto quelle di figliare figliare facendo in modo che la loro progenie possieda sempre più elementi magici la probabilità che però tagli elementi aumenta è sempre più bassa e arriva molto vicino allo 0% per ottenere 6 elementi a 7 non ci sono ancora riusciti quindi in realtà si tratta di una guerra anche psicologica perché c'è poco conflitto armato ma la gente ha paura di andare per strada vicino al confine perché è facile che si venga rapiti che si venga selezionati che si vengono fatti esperimenti quindi è una una guerra psicologica molto pesante che spesso rasenta il conflitto armato il fatto è questo l'interesse è lo stesso da entrambe le parti quindi spesso chiudono l'occhio l'uno con l'altro e quindi inizia il vostro viaggio nelle terre perdute viaggio che ti avverto durerà diverse ore all'incirca 4 puoi sfruttarle per un riposo breve per recuperare una parte di HP e metà della tua affinita massima e nel mentre ovviamente puoi parlare fare cose ovviamente ci sarà il time skip perché non stiamo con 4 ore però si voglio sfruttarle per un riposo breve premessa nel carro siete soli terra una dream ok non sai dove sia caleva siete voi due non c'è una guardia all'interno ma facilmente ci sarà la gente si saluta fuori quindi voglio intanto chiedergli se questi sono i cacciatori erranti e come mai non dico li conosce però conosce la loro lingua ok devi farmi un tiro su intuizione un attimo ok 16 16 più 2 18 quando posti poni la tua attenzione su una delle migliori a questa domanda ti accorgi che stava piangendo sommessamente ma stava piangendo è un ragazzo di 19 anni allora io che sono un attimo più grandicella vorrei provare a consolarlo ma allo stesso tempo non lo conosco quindi capisco che probabilmente sente triste ma non so esattamente perché cioè se per caleva se perché per un senso di colpa se per altro completamente quindi non voglio assumere cose voglio semplicemente tentare di avere delle risposte senza diciamo farlo stare male inutilmente anche perché sono convinta ancora che di non sapere tutto o comunque che chiaramente lui non dico mi nasconda qualcosa perché magari non è qualcosa che deve dirmi però c'è qualcosa che non so chiaramente e e quindi non so in quel momento non so neanche cosa dirgli perché sono un attimo spiazzata me ne accorgo dopo aver detto quello che ho detto ragazzi mezz'ora prima di tutto questo Luna Dream aveva ammazzato a sangue freddo una persona vero io me ne accorgo dopo aver diciamo formulato le mie domande chi appunto lui sta piangendo allora diciamo che appena gli fai questa domanda e metti l'attenzione su di lui ti accorge che sta piangendo a quel punto io non sapendo cosa dire e non volendo diciamo forzare una risposta sto zitta piuttosto che dire che dire cazzate ok però la domanda gliel'hai fatta ci mette un po' a rispondere si scherisce la voce un attimo sì sono i cacciatori errati magari non ti va di rispondermi ma beh lo capisco in caso però posso chiederti perché Kaleva è così importante e perché tu sai la loro lingua credo che a questo punto sul motivo del mio viaggio non debba più nascoltarti nulla probabilmente non ne usciremo nemmeno vivi appena scopriranno chi sono non ti ho mentito su quella che è il mio ruolo io sono un guardiano delle nebbie io conosco la lingua dei cacciatori erranti perché le mie origini sono da loro io nacque tra le tribù dei cacciatori erranti lo ricordo a livello molto basilare il loro linguaggio non so se tu credi negli dei o negli spiriti ma nelle terre perdute ogni qual volta accade un fatto particolare che è appunto l'espansione delle nebbie che è quello che sta avvenendo adesso le nebbie della colpa si stanno espandendo e quindi gli dei rivolgono indietro ciò che è perduto ogni qual volta accade questo una persona viene scelta e questa persona divene ricettacolo dello spirito che più è vicino agli dei quando è avvenuto mia sorella Sarai è stata scelta il problema è che noi siamo fuggiti dalle tribù erranti dei cacciatori erranti e quando mia sorella è stata scelta io ovviamente ho ricevuto diciamo il permesso per potermici allontanare dalle nebbie il fatto è che quando sono arrivato il nostro villaggio era stato completamente distrutto e mia sorella è scomparsa probabilmente i cacciatori erranti vogliono riottenere quello che hanno perso soprattutto perché ora qualcuno del loro sangue ospita lo spirito più potente antico di Eldamas non hai idea dei poteri di quello spirito è capace di concedere i poteri di tutti e sette gli elementi a chi lo ospita potrebbe farlo persino a me che sono come li chiamate voi un dimenticato quando ho visto il villaggio distrutto mi sono corso a chiedere aiuto ho abbandonato il mio dovere ho trovato Kaleva le ho spiegato tutto questo e abbiamo deciso che è il caso che dato che quello che può avvenire è un rischio per l'intero mondo non solo per le terre perdute tu avresti fatto quello che dovevi e noi avremmo cercato di avvertire il resto del mondo del pericolo che si sta avvicinando il pericolo di cui parli risiede in tua sorella in questo spirito o in chi gli dà la caccia il pericolo risiede nel fatto che se i cacciatori erranti troveranno mia sorella probabilmente le impediranno di sigillare le nebbie perché questo è il ruolo dello spirito impedire che le nebbie si espandano e se lei non le sigillerà ingoieranno il mondo Tasha non è ribadiamolo per la centesima volta non è particolarmente credente quindi quando hai iniziato a sentire e quanto ribadiamolo per la centesima volta gli dei le divinità gli spiriti nel damas sono un dato sentendo questa cosa degli spiriti gli spiriti in realtà ne hai già sentito parlare di più te lo dico sono una cosa molto più concreta delle divinità sì ci sono nei racconti nelle leggende però si conosce molto di più sulla loro natura sai che esistono modi per sigillarli che sono creature molto rare ma non è mai sentito di uno spirito talmente potente che possa addirittura donare poteri magici e soprattutto i dimenticati sono una novità in eldamas ci sono da veramente pochissimo tempo pochissimi anni i dimenticati i dimenticati sono coloro in eldamas che nascono incapaci di usare la magia sono completamente privi di poteri magici e sono una conseguenza della guerra degli elementi della guerra del sangue una conseguenza che sta saltando fuori ma persino nelle terre proibite c'è un dimenticato e sua sorella invece è custode dello spirito più potente di eldamas a detta sua a questo punto della faccenda Tasha potrebbe anche diciamo fidarsi della storia degli spiriti delle cazzate degli dei un po' meno del fatto che abbia così tanti poteri e un po' meno della questione diciamo nebbie e della questione che inghiottiranno il mondo se questo spirito non li sigillerà però dal tono immagino che lui faccia trasparire il fatto che questa era la sua missione quella forse di proteggere la sorella o comunque cercarla trovarla o comunque portare il messaggio ad elda ma se era qualcosa per lui di importante quindi o è un pazzo o è un mostro a mentire oppure o è un mostro a mentire oppure effettivamente questa cosa ha un fondo di verità per quanto per Tasha sia difficile capirlo e comprenderlo provare a farmi un'intuizione per capire se ti sta mentendo sei lucido mentre ti parla 17 più 2 hai fatto non ti sta mentendo crede davvero in quello che sta dicendo cioè avverti che questo è diventata la sua ragione di vita perdonami se te lo chiedo ma in che modo in che modo le nebbie inghiottiranno il mondo e in che modo dovrebbero essere sigillate col potere degli elementi non esattamente le nebbie sono il risultato di quella che fu una guerra molto antica quando i cavalieri lessero i primi quando gli dei lessero i primi cavalieri di Eldamas i primi sette vivivano nelle terre perdute questi uomini ne hanno preso uno da tribù e poi le tribù si sono spostate a nord il problema il problema è che quando il mondo venne privato della presenza degli dei perché gli umani tradirono il nome di Halavad questa è la prima volta che senti questo nome e il sogno divenne lo specchio degli uomini dalla terra bramò un desiderio inarrestabile un desiderio di colmare il vuoto perduto e quindi le nebbie consumano raccolgono cercano di riempire questa mancanza quello che faranno è prima di tutto togliere i poteri magici a tutti e poi poco si sa sono pochissimi coloro che riescono a riuscire a uscire dalle nebbie e io fui uno di loro io ho persi i miei poteri quando entrai nelle nebbie io non sono nato dimenticato credi che la corruzione e la consumazione delle nebbie sia ovviamente tu che ci sei stato qualcosa di prettamente fisico o qualcosa di più psicologico non c'è niente in quelle nebbie solo una piana desolata non c'è nemmeno la neve terra grigia è morta quindi non te lo so dire vedi è ironico io volevo partire alla volta del mio paese per tentare di portare un po' più di tecnologia e prosperità in queste terre i miei concittadini pensano che che si tratti di terre antiche questo è indubbio ma di sicuro non avrei mai pensato che avessero che fossero i nostri antenati a disiedere in queste terre è stato il vostro errore quando avete varcato le coste delle terre che voi chiamate perdute avete superato un limite dal quale non si tornerà più indietro non è un caso che mai siamo venuti al nord non è un caso che mai abbiamo cercato i contatti con voi adesso le tradizioni si sono allentate perché la terra degli spiriti deve essere divisa da quella dei nuovi uomini cosa no no questa non è la terra degli spiriti questo è l'ultimo spicchio di Elamas che ancora non ha tradito il suo nome questo luogo è ancora Halavad questo luogo è ancora il sogno degli dei e voi ritornandoci senza il desiderio di farlo ma ciò è avvenuto avete nuovamente piantato il seme dell'egoismo del male nel cuore dell'uomo e quindi il nostro ruolo di guardiani sta perdendo efficacia oddio perdonami non metto in dubbio il tuo ruolo di guardiano e non metto in dubbio la tua la tua vocazione ma non mi sembra di aver portato la guerra in casa vostra non mi sembra di aver portato niente di così negativo in casa vostra se non prosperità tecnologia ed è un po' irritata sono un po' irritata da questo atteggiamento non solo perché non credo al 100% agli dei ma anche perché lui non ha detto chiaramente cosa hanno fatto gli uomini per tradire il nome di Avalad o di Elda ma so come cazzo si chiama quindi essendo Tasha una persona molto pratica reagisce in questo modo non è volutamente stronza è semplicemente un attimo irritata in che modo avremmo insomma i nostri antenati non di certo noi tradito il nome degli dei cioè come come è successo Avalad nella nostra lingua significa il sogno degli dei tu sai che gli dei creeranno il mondo in base al loro desiderio lo sai cioè questa è una cosa universale sì 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 il problema è che quando Zarat concesse la libertà agli uomini questi invece di vedere il male come un'apertura una possibilità di scegliere la verità e il bene la presero come una via che si poteva interprendere e quindi Halavad cessò di essere il sogno degli dei perché diventò un luogo di morte rovina e distruzione questo perché l'uomo è libero per questo tradì il suo nome divenne Eldamas lo specchio dell'uomo ma noi siamo l'unica tribù rimasta l'ottava tribù che ormai si è divisa e separata che era che era qui per impedire che le nebbie andassero oltre i confini di questa terra per mantenere il male del mondo sotto controllo noi eravamo chiusi a voi noi siamo umani ma siamo diversi noi siamo ancora gli umani dell'inizio vuole cercare voglio cercare di essere diplomatica nel diri quello che sto per dire ok quindi perdonami ma te lo dico molto chiaramente io non sono particolarmente religiosa però allora c'è un modo per provartelo da come me l'hai raccontata ora sembra che gli uomini abbiano tradito il nome degli dèi acquisendo la libertà che gli è stata data da uno stesso dio non è stato non è stato qualcosa che hanno fatto è stato qualcosa che gli è stato dato che colpa ne avevano la libertà è stato un dono lo sfruttarlo in modo sbagliato è stata una colpa un dono per il quale gli dèi hanno rinchiuso Zarat perché sapevano del rischio di questo dono comunque ho un modo per provarti che noi siamo diversi da voi tu dopo un po' non riesci più a usare la magia giusto devi riposare si la prossima volta che combatteremo vedrai che Caleva non ha bisogno di riposare al che io sono scientificamente interessata perché comunque è qualcosa di è un fenomeno visivo che io posso vedere capire quindi sono già più sull'attenti interessante ma quindi scusami un secondo per ritornare insomma secondo quello che è il tuo credo se dovessi diciamo soddisfare quello che è il tuo credo andando un giorno forse se ci libereranno ipotizzo ritornando al mio mondo al mio senato dovrei dire di lasciare queste terre ormai non servirebbe più ormai il sigillo è stato aperto non c'è più modo per tornare indietro l'unica cosa che si può fare è far imparare agli uomini a saper decidere cosa fare della propria libertà perdonami però io non capisco ancora il collegamento fra la nostra venuta qui che è stata molto pacifica e la rottura del sigillo tua sorella è stata cercata ed è tuttora cercata dai cacciatori non dalla nostra gente noi siamo venuti qui in modo pacifico non ho detto che avete portato guerra avete portato diversità avete portato il cambiamento questa terra doveva restare immobile persa nel sogno degli dei voi ci avete consegnato altri strumenti in buona fede per aumentare il nostro desiderio quindi vi abbiamo corrotte questo che stai dicendo no non sto dicendo che ci avete corrotto sto dicendo che ci avete aperto una via una via che ci apre a un rischio maggiore noi siamo sempre stati ignari e più sei consapevole in questo mondo più ne vedrai i mali e le sofferenze essere incline e straniartici noi invece dobbiamo viverci in questo mondo dobbiamo rimanere piantati nelle nostre radici non dobbiamo avere la consapevolezza di quella che è la potenzialità della libertà umana l'unico modo perché l'uomo scelga il bene e l'ignoranza della propria libertà e voi ci avete portato dicendoci che era un diritto dicendo che era un bene che noi diventassimo parte del vostro popolo e del vostro regno non è una colpa però ormai non si tornerà più indietro allora probabilmente Tasha non parlerà più per questa conversazione perché non vuole offenderlo però giusto perché lor signori ascoltatori e visionatori di questo episodio capiscano lei non è per un cazzo d'accordo su quello che sta dicendo però allo stesso tempo non vuole appunto offenderlo non vuole dirgli tu non hai capito il cazzo è la vita perché la vita è sofferenza perché la vita è schifo ti dico quello che volevo rispondere e mi sono letteralmente morsa dalla lingua in game preferite vivere senza la ruota e senza le strade senza ce l'hanno la ruota dai sto scherzando nella merda per compiacere gli dei perché questo è quello che Tasha pensa per compiacere gli dei non usando la vostra libertà per banalmente essere felici non dico che non esistono persone di merda a questo mondo e non volendo prendersi il rischio come società che possano esistere persone di merda e da da persona della terra del fulmine è per questo che esiste la giustizia ok tra parentesi non l'ho mai bellissimo ti sto amando non l'ho mai non l'ho mai tirato fuori ma è per quello che esiste la giustizia perché il male compiuto come come atto egoista libertario va punito se va a inficiare la libertà altrui eccetera base della giustizia ma queste persone non lo conoscono perché non hanno un cazzo queste persone se non hai neanche le strade come cazzo fai a capire che il male lo puoi combattere con la giustizia fine la risposta che ti avrebbe dato Runadream dato che tu non gli hai posto questa domanda ok rimarrà un mistero non te la dirò nemmeno in metagame perfetto quindi te ti mordi la lingua in silenzio una cosa per quanto tu te la sia presa per quello che ha detto riconosci un intento sincero in Runadream cioè non sta giudicando o criticando è come se stesse esponendo un fatto compiuto quindi non c'era un giudizio diretto né verso di te né verso chi ha colonizzato se tu non gli chiedi altro Runadream torna in silenzio anche io perfetto io ti dirò questo sei mentalmente stanca riposerai per quasi tutto il viaggio alla fine dopo questo discorso che non ti ha per niente soddisfatto chissà che idea si è fatta a tascia di Runadream vado a dormire pensando sti cazzo di fanatici religiosi di merda sogni di nuovo la nebbia quella che tu sognati la prima notte la notte prima di partire ma questa volta la nebbia ti sta consumando visibilmente proprio stai diventando trasparente le tue dita scompaiono queste nebbie mentre ti consumano in realtà non arrivano non è che salgono fino alla testa stanno consumando anche la tua testa e si fermano al tuo cuore che tu vedi come se fosse diventata una telecamera che vede dall'esterno il tuo cuore è azzurro e nero una luce azzurra e nera che si mescola quello rimane resiste alle nebbie e poi un tocco ti sveglia era una dream siamo arrivati adesso verremo interrogati in ogni caso ti auguro buona fortuna e la porta e la porta del carro viene spalancata e vi vengono levati i sacchi di testa la luce vi abbaglia e l'alba la notte dura poco in questo periodo dell'anno c'è un freddo terribile dalla direzione in cui sorge il sole capisci che vi siete spostati a est quindi io ben lontani da dove dovevate arrivare voi e vi trovate appena venite condotti fuori del carro vedete appunto questo accampamento ben organizzato non sono tende di fortuna si vede che è gente abituata a vivere da nomade quindi i suoi strumenti ce li ha e dove c'è questo grande falò ma con grande intendo veramente grande al centro si tratta di almeno 5 metri di diametro di falò attraversate queste tende che sono tutte simili tranne un paio una è decisamente più grande delle altre in cui fai 2 più 2 lì ci sta il capo dell'accampamento e un'altra che forse fa da magazzino o da altre cose diversi vedete cavalli vedete un sacco di lupi c'è un recinto esterno che è pieno di lupi neri gli stessi lupi che tu ero una dream avete appunto il piacere di conoscere voi venite condotti al falò e vi fanno sedere sulla neve il freddino avete il culetto il freddino per così dire sulla neve anche se il falò fa caldo quindi è una sensazione fastidiosa perché siete bagnati sotto col freddo e avete l'aria calda del falò che vi viene addosso e l'uomo col fucile vedete che va abbastanza rapidamente nella tenda più grande starà lì un paio di minuti quindi se vuoi dire qualcosa dillo se vuoi fare qualcosa farlo se vuoi guardarti attorno se vuoi voglio guardare le luna dream voglio chiedergli in modo ovviamente abbassa voce c'è qualcosa che devo omettere omettere probabilmente ti diranno loro più cose di quelle che tu sai cerca di non mostrare particolari legami con me piuttosto con tashi con kaleva fingi di non sapere come mi chiamo chi sono e da dove vengo o potrebbe finire veramente molto male per te e per te come finirà non lo so è facile che verrò ucciso creiamo ti un'identità fettizia scusa capiranno chi sono so chi sono i grandi capi e hanno tutti un potere molto particolare è difficile nascondergli le cose cazzo sia in game sia metagame lo sai vuol dire potere dell'ombra che si tratta di persone esatto sai che l'ombra ha il potere della mente hai sentito che i più potenti sanno entrare nella mente degli altri quindi dico proprio cazzo in game e dagli stemi penso anche di aver capito chi è non siamo semplicemente in un accampamento siamo dal vice assoluto dai cacciatori a ratti è un uomo veramente pericoloso tazzana si chiama oltre al fatto che mi conosce di persone quindi ci metterà veramente poco a capire chi sono detto questo l'uomo col fucile esce e si avvia verso di voi col fucile spianato vi dice qualcosa una dream si alza in piedi quindi puoi intuire che sia alzatevi io mi alzo con molta calma e vi conduce con abbastanza fretta e anche violenza vedi che un bel calcio di fucile lo dà nelle reni a Ronald Ream perché vada in fretta entrate entrate in questa tenda tenda che malgrado le dimensioni è molto spartana molto sobria al suo interno c'è un tavolino veramente semplice un giacciglio di paglia un minuscolo focolare acceso al suo interno molte armi anche di fattura buona di acciaio proprio fucili tu dici fucili ne vedi un paio il fatto è questo qui sono all'era del bronzo questi non sanno cos'è l'acciaio non l'hanno mai fatto e tu vedi armi che sono palesemente di acciaio è seduto sopra il tavolino a gambe incrociate sta un uomo molto alto dalla carnagione abbastanza scura e gli occhi chiari a mandorla capelli cortissimi ha elineamenti duri ma proprio duri non perché sono spessi ma perché sono di un tagliente mostruoso è sottile quasi ferino potresti dire che vi osserva appena vi vede parla e questa volta lo fa in comune ha un accento molto strano quasi mellifluo più dolce di quello di Kalevame in maniera fastidiosa mi dice benvenuti miei cari ospiti da quanto tempo che non ci si vede fratello mio va vicino a Ronaldream e gli tira un pugno nello stomaco Ronaldream si piega in due bene so già che non mi dirai niente e che le tue difese mentali sono piuttosto forti ragazzone quindi per scoprire dov'è la tua sorellina ti farò conoscere un mio caro amico mi piacciono molto i coltelli cerca solo di non spaventare la tua amica con le urla schiocca le dita e l'uomo col fucile conduce fuori una dream che è improvvisamente impallidito sembra che stia per vomitare e tu hai capito che lo stanno per torturare riguardo a te invece siediti e praticamente ti spinge per terra a sederti per terra e lui torna a sedersi sul tavolino vedi che c'è il tuo zaino vicino al tavolino adesso e recupera la lettera di tuo padre e la legge quindi evoluzioni tecnologiche eccetera 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 sì 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 tutto come concordato insomma come scusa ah mia cara tascia giusto secondo te come li abbiamo questi fucili secondo te come li abbiamo le armi di acciaio secondo te come siamo arrivati fino a qui senza che nessuno sapesse che nessuno informasse le tribù in centro le tribù centrali gli ho fornito i progetti non ci sono stati forniti i progetti e tuo padre è stato fedele su questo per avere salva la vita sua e tua ci ha fornito semplicemente le armi già fatte ha venduto i progetti il regno dell'acqua però quello sì sei infilata in un bel disastro ragazza mia però sono in buoni rapporti con tuo padre quindi a meno che tu non faccia brutti scherzi non ti farò del male ma spiegami un po' il ragazzone di là come come l'hai incontrato come vi siete conosciuti sto zitta le faccio no con la testa come per dire non ho idea di chi cazzo sia peccato che le provviste nelle bisacce dei vostri cavalli indicassero che stavate eravate pronti per un viaggio di quasi un mese io dovevo andare nel regno del fulmine questo lo so e in teoria non saresti nemmeno dovuta tornare indietro avrei dovuto almeno avere la possibilità di andarci prima di vedere se sarei tornato vero ma i patti sono cambiati hai avuto la sfortuna di conoscere la persona sbagliata nel posto sbagliato tranquilla che leva non le faremo del male è troppo importante non è il momento per la guerra prima dobbiamo avere abbastanza armi per farlo abbiamo mandato in costruzione delle baliste io ammazzo mio padre te lo dico però tuo padre è bravo a contrattare sai non toccheremo le tribù centrali se non lo porranno in esistenza ma dubito che non lo faranno quindi domanda probabilmente sarà guerra anche contro dei loro domanda per il futuro io non so se c'è solo per curiosità loro non hanno i progetti cioè almeno da quanto mi ha detto hanno avuto le armi da quanto si è detto hanno avuto le armi se quello che ha detto cioè questo tipo di popolazione ovviamente avendo il rifornimento eventuale del regno dell'acqua quello lasciamo una parte però solo loro come popolazione senza i progetti non sarebbero in grado di replicare delle armi che già conoscono tipo fucili potrebbero capirne il funzionamento però non hanno gli attrezzi per farlo non le potrebbero costruire in quel senso costruirle no tuo padre è bravo a contrattare non toccheremo le tribù centrali a meno che non diano fastidio poi a noi poco interessa della pietra di giluev ve la daremo tutta in cambio di lasciarci il controllo di queste terre penso che sia il caso di dirti la verità un pochino su quello che sta avvenendo la vostra colonizzazione dopo che ha scoperto la pietra di giluev il senato non ha più interessi di alcun genere a portare civiltà vuole la pietra e a noi di quella pietra non ce ne facciamo nulla quindi cosa abbiamo fatto abbiamo lasciato il popolo del fulmine scavare nei nostri giacimenti gratuitamente lasceremo scavare il vostro regno per trovare tutta la pietra di giluev che vi possa servire in cambio abbiamo ottenuto le armi degli alleati per la guerra e avremo il controllo di queste terre e di questo popolo come è giusto che sia hai ancora molto da imparare ragazzina mi metto a ridere perché sono stata fottuta dal mio stesso padre e mi metto proprio a ridere nel momento in cui ridi nel momento in cui ridi un urlo squarcia l'aria e subito dopo un altro e un altro ancora oh hanno iniziato io ridi so che non cederai in fretta io continuo a ridere solo nel mio faremo così dato che evidentemente è rignata di tutto questo non mi serve nemmeno entrati nella mente e libereremo ti daremo una scorta tu andrai dove devi andare nel regno del fulmine e non farai più ritorno facendo ciò che deve essere fatto se accetti di farlo posso prometterti che non uccideremo il tuo amico almeno in questa prima fase mi assicurerò che il mio amico non lo uccida e posso assicurarti che tratteremo Kaleva giustamente per i vostri criteri siete il popolo della giustizia no? diciamo che sparare ad una persona trovare motivi per torturare la gente e poi contrattare un rilascio non è un contratto è un ricatto ragazza mia appunto per questo è inutile che tu mi dica sei del regno della giustizia perché qui di giustizia non ne vedo ma non so se ho scelta a quanto pare forse è il caso che ti mostri questa si gira vai in un baule e apre una lettera si avvicina e te la passa riconosci subito il sigillo del senato del regno del fulmine ah ho ancora le mani legate ah ti farò il piacere di reggertela e te la metti davanti alla faccia la lettera dice questo tuo padre era stato ricattato dal regno del fulmine e il ricatto era quello che se non avesse condiviso i progetti e le scoperte avrebbero richiamato indietro sia te che lui vi avrebbero condannati a diversi anni di carcere vi avrebbero tolti del vostro titolo nobiliare e del vostro voto in senato e avrebbero mandato un altro governatore a recuperare la pietra di Giluef solo che tuo padre poi per vendicarsi si è alleato con noi quindi il vostro alleato qual è esattamente? non è più il senato? no il senato crede di essere il nostro alleato noi siamo alleati del regno dell'acqua che odia la vostra gente non so se lo sapete e di tuo padre tuo padre che ormai ha perso totalmente interesse per questa gente non crede più in nulla e quindi si è alleato con il regno dell'acqua mi ha dato i tuoi progetti sei una ragazza intelligente sai e il regno dell'acqua ha iniziato a produrre le armi che ci vengono date ripeto la mia offerta se non vuoi che il tuo amico venga ucciso nei prossimi 20 minuti e se vuoi che Caleva venga trattata con la giustizia che merita tu partirai per il regno del fulmine con una nostra scorta parteciperai alla regno del senato conscia di ciò che devi fare e quando il senato ci manderà la prossima lettera e vedremo appunto i risultati del tuo essere rimasta fedele a questo patto rilasceremo Caleva non che non voglia accettare sai non capisco cosa c'entra Caleva in tutto questo Caleva è semplicemente una pedina un po' più importante sarebbe la figura con cui dovremmo contrattare al momento della guerra ucciderla porterebbe a diversi problemi ma in ogni caso ti ho detto che se possiamo evitare di spargere il sangue lo facciamo se Caleva accetterà di arrendersi quando sarà il momento non verrà torto un capello né a lei né alla sua gente se invece la uccidiamo non ci sarà nessuno con cui contrattare non potremo altro che fare piazza pulita domanda quanto sono stronzo a parte quella allora quando siamo scesi io ho visto per caso sei sceso con noi il dottore dell'acqua del regno dell'acqua no non l'hai visto io non lo continuo a dire ma ci sono urla pianti e singhiozzi in sottofondo sì e anche suppliche al mio amico potrebbe scivolare la mano là fuori sono d'accordo allora accetto la vostra offerta a meno che per andare avanti con i vostri piani non vi serva qualcuno che potenzi le vostre armi ah sì sì il funzionamento magico sappiamo anche quello in realtà abbiamo trovato un metodo più efficiente con la polvere da sparo può usarla chiunque e io potrei insegnargli a mirare potrei renderla ancora più potente oh ma infatti ci servirà in futuro non ho detto che ti uccideremo ma mi lasciate andare ora ho detto che rimarrai al senato del fulmine perché io non ho detto che ci fermeremo alle terre perdute sai e io non ho parlato di potenziare solo i cucili di sicuro non combatterete solo con quelli non sei l'unica inventore di questo mondo ma sono la più brava vero non sei l'unica inventore di questo mondo arrogante ti dirò questo il popolo dell'acqua come voi lo chiamate oltre a odiare la vostra gente ha interesse nel soverchiare il popolo dell'ombra noi non abbiamo problemi dato che ci interessa sconfiggere tutti in Eldamas dobbiamo riportare il mondo al suo stato antico dobbiamo riportare il mondo a essere nuovamente Alavad quindi avremo degli alleati la nazione militare più potente di Eldamas non sbaglio sì oltre a qualcuno che guarderà in silenzio come appunto il senato del regno del fulmine ma se ti dicessi che per quello che ne so io tu non tu e la tua gente non sapete esattamente tutto sulla tecnologia che possediamo però io posso dirvelo posso anche darvela quella tecnologia il fatto è che tu non sai quanto ci è stato dato quindi siamo a un punto morto perché io potrei dirti che ci è stato dato tutto e tu potresti non crederci e continuare a ritrattare io ti ripeto per questo al momento non mi servi mi servirai dopo per ora hai un compito svolgilo e ti prometto che ritratteremo il tuo ruolo in futuro posso fare anche un patto di sangue se lo desideri capisci che il problema qui non è quanto io non so è quanto voi non sapete sui sette regni e l'unica persona che può dirvelo sono io quindi se io dovessi tornare nel regno del fulmine parlare effettivamente al senato fare quello che mi hai detto tu però poi mettessi il piede su un gradino sbagliato da molto in alto e mi spezzassi l'osso del collo voi potreste arrivare che rimarrai da sola la mia scorta verrà con te sarai sorvegliato a 24 ore su 24 se lo svolgerebbe nel tuo conto ti sarà concessa un po' più di fiducia non sono un ragazzino oltre al fatto che non sei l'unica persona con cui abbiamo contatti abbiamo contatti anche nel regno della terra sai ok le guerre perdute stanno per uscire dai loro confini e c'è un enorme guerra in procinto e noi siamo freschi il resto del tuo mondo invece è in guerra da molti secoli e sono indeboliti io la vedo come una vittoria assoluta se tutto va secondo i piani capisco quello che intendi e sono sicura che pure i tuoi contatti nel regno della terra siano fantastici però c'è come dite un piccolo problema una minaccia un po' più grande che le nebbie no 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 Una minaccia un po' più, come dire, fuori dalla vostra portata? Che sarebbero? Che sarebbe questa minaccia? Una... un'arma che... volendo potrebbe impedirvi nel vostro progetto? Potrebbe sterminarmi tutti, volendo. Le armi in grado di sterminare popoli esistono da molto tempo e per quanto ne sappia sono sette. Chiederò ai miei informatori, la zanna nera è sempre contenta di fornirci le informazioni che ci servono. Allora nel mentre cercheremo questa fantomatica arma, tu rimarrai qui. E come mia ospite personale. Ti dico solo che quello a cui mi riferisco non è qualcosa legato alla magia. Immaginavo. Beh, direi che la nostra riunione è conclusa. E la tenda attorno a te fa un piccolo tremolio. Fanculo. E capisci che era nella tua mente. Fanculo. Bene. La tua tenda ti darà un posto da qualche parte. Non sarà un luogo di piacere. Non siamo proprio civilizzati come voi dite. Però cercheremo di non farti stare troppo male. Adesso dovrò fare un saluto al nostro amico in comune. Vedere se ha mollato un po' quella lingua. Portatela via. Inizia a cadere la neve. Fine della sessione. Volevo chiederti un'ultima cosa prima di uscire dalla stanza. Non so se devo tirare su percezione e intuizione. Per capire se lui mi ha semplicemente accontentato. O se ha un minimo creduto a quello che gli ho detto. Devi tirare un'intuizione. Ok. Venti naturale. Capisci. Che ti ha accontentato. Non crede all'arma. Ma hai percepito. No. Non è che non ci crede. Genuino interesse. Da quel punto di vista. Ok. Ha riconsiderato un attimo la tua posizione. Ok. Comunque. Batte le mani. Entrano due uomini armati. Ti sollevano di peso. Ti girano. Ti conducono fuori. E appena fai un passo. Oltre la soglia della tenda. Inizia a cadere la neve. Fine della sessione. Ok. Nel frattempo ho fatto un aereo di carta. Ma ero molto attento con quello che stava succedendo. No perché questa è stata una delle tue introspezioni da personaggio che mi è piaciuta di più in assoluto. Te lo dico proprio di tutte quelle che abbiamo fatto finora anche nelle altre campagne. È stata la più in character. Eh sì. La più bella. È la più realistica. Pur sapendo che tu di metagame sai il mondo di Enthramas. E' stato bellissimo. Quindi grazie per questa esperienza. Allora. Grazie a tutti.